Musica Buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia. I titoli La rata Tari da pagare subito dopo aver chiuso per la zona rossa. Protestano i commercianti di Stradella, uno dei pochi comuni che quest'anno non ha applicato sconti per l'attività danneggiate dalle restrizioni. Comune Ascom Pavia lanciano un portale, una app dedicata al commercio di vicinato, una vetrina per negozi, bar e ristoranti dove si può ordinare e richiedere consegne a domicilio. Non si ferma l'aumento dei ricoverati negli ospedali della provincia di Pavia, nessun balzo ma i nuovi ingressi sono costanti. Secondo reparto Covid a Stradella, riconvertita medicina. Sono sempre più i comuni che hanno scelto di pubblicare sui canali istituzionali il bollettino quotidiano dei contagi. La decisione aspetta ai sindaci, molte le richieste dei cittadini. Sono stati numerosi negli ultimi mesi gli episodi di avvelenamento di api, spesso causate da insetticidi. Dall'Otre Popavese l'appello degli apicoltori per una vigilanza a livello regionale. Apriamo questa sera il telegiornale parlando di commercio e cominciamo dalla vicenda dei commercianti di Stradella che sono piuttosto arrabbiati perché si sono visti pochi giorni dopo essere costretti a chiudere per l'applicazione delle misure della zona rossa arrivare a casa. L'avviso di pagamento della Tari, tra l'altro Stradella, è uno di quei comuni che non ha applicato gli sconti Tari per in qualche maniera compensare il periodo di chiusura primaverile. E quindi abbiamo sentito le voci della protesta. Prima il lockdown di primavera, poi le spese extra per riaprire in sicurezza, poi ancora la seconda ondata di epidemia, il nuovo lockdown da zona rossa della scorsa settimana che ha fatto richiudere a molti i battenti e ad altri che in qualche modo hanno potuto stare aperti ridotto drasticamente i fatturati. Alcune categorie come i ristoratori hanno abbassato la Claire per 66 giorni in primavera che aggiunti ai 6 già trascorsi a novembre fanno 72. E ora i commercianti a Stradella come altrove chiedono al comune l'esonero della Tari, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, almeno per i mesi in cui sono stati chiusi e quindi non hanno prodotto rifiuti, oltre ad altre forme di incentivi per il settore come i parcheggi gratuiti. Così Marco Viglini, storico imprenditore stradellino, oggi titolare di un ristorante stellato nel centro della cittadina. Mi devono spiegare quali sono i motivi per cui io debba pagare 5.200 euro all'anno o 5.000 euro, adesso non mi ricordo, vado a spanne, di rifiuti quando per quattro mesi io sono stato impossibilitato a lavorare. Sono all'incirca 400-450 euro al mese. Quindi voglio dire, è l'affitto di un appartamento, di un bel appartamento, perché devo buttare 450 euro per un servizio che si fa pagare il comune ma in realtà noi non abbiamo usufruito. Le richieste sono uguali anche per chi, come Caterina D'Urso, che gestisce un sushi bar in piazza Trieste, ha potuto tenere aperto il locale grazie all'attività di asporto. Ci sono comuni limitrofi al nostro, senza fare nomi, Broni, che ha già messo sul piatto parecchie misure a sostegno, come ad esempio esenzione del pagamento del parcheggio, ha fatto contributi a fondo perduto già dopo il primo lockdown e ne sta prevedendo degli altri. Sappiamo che il comune ha ricevuto 61.800 euro dal governo per compensare i mancati introiti, che possono essere utilizzati, non hanno un vincolo di utilizzo, quindi si potrebbero anche mettere a disposizione delle attività. Per alcuni, come è stato detto in Commissione Commercio, ricadono a pioggia e quindi non servono a nulla, ma invece assicuriamo che dare un 300, 400, 500 euro a un'attività che magari sta soffrendo, con il quale un piccolo negozio magari ci paga un affitto intero, un'attività come la mia magari ci paga un terzo dell'affitto, diciamo che, insomma, non dispiacciono. Richieste analoghe verranno presentate dall'opposizione nel prossimo Consiglio Comunale in programma la prossima settimana. Nell'ordine del giorno, depositato dal gruppo Alleanza Civica alla Torre, l'ex sindaco Pier Giorgio Maggi, oltre allo sconto del 25% sull'Atari, chiede una serie di contributi a fondo perduto, una tantum fra i 400 e i 500 euro, per le imprese commerciali che stanno soffrendo per le restrizioni. Nelle ultime ore, intanto, un appello del tutto simile indirizzato al Governo, è giunto anche dal Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani, che ha chiesto un'agevolazione generalizzata in tutta Italia proprio sull'Atari. Ci auguriamo che il Governo e il Parlamento forniscano i fondi necessari, ha detto il Presidente del Lanci, De Caro, con la tempestività che la situazione richiede. Molte attività hanno chiuso a causa dell'entrata in vigore delle misure della zona rossa, però ce ne sono altre che di fatto hanno smesso di lavorare anche prima, è il caso a Pavia, dei bar e dei ristoranti che basano la loro clientela soprattutto sugli universitari. Ricordiamo che la frequenza per le lezioni in presenza delle lezioni dell'Università di Pavia in realtà si era quasi completamente annullata, perlomeno da parte di chi non abita fisicamente a Pavia, che quindi poi andava nei bar e nei ristoranti già da molto tempo prima che venisse dichiarata la zona rossa. Baristi, ristoratori ed esercenti più in generale sono tra le categorie più colpite dalla seconda ondata di contagi e dal conseguente lockdown imposto dal Governo in Lombardia. Prima il blocco alle 6 del pomeriggio e ora la chiusura totale con la possibilità di lavorare solo con l'asporto. Troppo poco perché ha dovuto fare i conti con il primo lockdown. È il caso del locale Pane e Salame di Corso Carlo Alberto, proprio di fronte all'Università. Bar storico che ha da sempre lavorato soprattutto con gli studenti. Vuoto, università chiusa, si torna come a febbraio, gli studenti non ci sono e non c'è lavoro. Le nostre attività, questa è come quelle di tutta la via, lavorano per l'80-70% con gli studenti universitari, potete immaginare voi in questo periodo il flusso di gente che abbiamo. Gli introiti si sono abbassati del 90%, non essendoci di studenti, non potendo fare feste e non potendo lavorare la sera, lavori di passaggio poco. È passaggio completamente azzerato con il nuovo lockdown, ma come molti locali i costi di gestione restano alti e le conseguenze della prima ondata a livello economico si stanno facendo sentire in maniera piuttosto pesante. L'unica soluzione per conciliare l'emergenza sanitaria e l'esigenza degli esercenti è di restare chiusi ma con i dovuti paracadute economici. Il problema è che ci sentiamo presi in giro, siamo stati presi in giro perché chiudiamo per poi ripartire, siamo ripartiti e adesso ci ritroviamo ancora in una situazione di vuoto, dove non si può lavorare così. Le spese sono troppo alte, se gli aiuti ci sono e sono come quelli che stanno dicendo, meglio chiudere. È permesso l'asporto e le consegna a domicilio, se per molti questo è una parte assolutamente residuale dell'incasso, per altri invece può rappresentare un'opportunità e quindi appavia si è cercato di fare fronte comune, di fare un unico portale, un'unica app per raggruppare varie attività cittadine. Una vetrina virtuale per aiutare i commercianti del capoluogo è stato presentato nelle scorse ore al Mezza Barba, il servizio ribattezzato Hashtag Comprovicino, un'app che consentirà di gestire con facilità gli ordini per l'asporto e per le consegne a domicilio. L'iniziativa come obiettivo è sostenere l'attività delle imprese locali durante il periodo di chiusura forzata. Compriamo vicino un sito web e un'app che permetterà ai negozi di vicinato, ai bar e ai ristoranti di promuoversi online, ricevere ordinazioni e organizzarsi con semplicità le consegne a domicilio e servizio d'asporto. Con questa app e con questa piattaforma i clienti possono gestire direttamente gli ordini e le consegne a domicilio nonché le consegne per asporto. Chiaramente in questo momento è particolarmente importante che questo servizio risulti performante in quanto le difficoltà di movimento rendono necessario questo tipo di lavoro. Quindi invitiamo i negozianti a informarsi, a scaricare la relativa app che trovano direttamente sul Play Store e invitare i loro clienti a fare lo stesso scaricando questa app. Se posso evidenziare l'app si chiama hashtag compra vicino. La collaborazione fra tutti diventa basilare, cosa che precedentemente non vedevamo così assidua e porta naturalmente i risultati, i risultati per andare incontro all'esigente dei nostri cittadini tutti. Noi abbiamo una serie di interventi che proporremo nei prossimi giorni e questo è solo l'inizio e a breve vi sapremo esporre anche tutto il resto, tutto quello che stiamo mettendo in campo. Due bara di Voghera, un negozio di frutta e verdura di Casteggio, si sono visti recapitare un provvedimento di chiusura dell'attività per cinque giorni per aver violato le misure anti-Covid. Le sanzioni sono state combinate a seguito di una serie di controlli fatti scattare dai carabinieri. I militari dell'aliquota radiomobile hanno ispezionato due bar in corso 27 marzo in via Lombardia a Voghera dove nonostante i divieti i clienti consumavano bevande in piedi sia all'interno sia nei pressi dell'ingresso dei due locali. Inevitabile la sanzione per i titolari visto che la normativa consente solo l'asporto. I carabinieri della stazione di Casteggio invece hanno sanzionato un negozio di frutta e verdura di piazza Cavura dove non era esposto il cartello che riporta il numero massimo di persone ammesse e dato che a momento del controllo il negozio era pieno di clienti sono scattate anche diverse multe da 400 euro ciascuna per il mancato rispetto del distanziamento. Vediamo i dati di oggi con un nuovo record di tamponi effettuati in Lombardia sono oltre 55.600 anche oggi torniamo a sfondare la quota di 10.000 nuovi positivi per la precisione 10.634 anche se è leggero calo al 19,1% il rapporto dei positivi sul numero dei tamponi. La brutta notizia è che dopo alcuni giorni di leggero contenimento tornano ad aumentare in maniera considerevole i ricoveri. Vedete più 272, 19 in più le persone in terapia intensiva. 511 sono tanti i contagi riscontrati oggi in provincia di Pavia vedete come rimane molto alto anche il numero dei decessi 118 nelle ultime 24 ore in Lombardia. Questi i dati della regione ora facciamo come sempre il punto sugli ospedali del territorio. Dopo il reparto di riabilitazione con 25 posti letto di cui 21 già occupati l'ospedale di Broni Stradella è pronto a riconvertire alla cura dei malati di covid anche quello di medicina con altri 40 posti. La pressione sugli ospedali della provincia di Pavia dettata dalla pandemia è in moderata e costante crescita e ASST Pavia che fino all'ultimo ha tentato di mantenere il piccolo ospedale dell'Oltrepo Covid Free ha dovuto cedere e riaprire alcuni settori per fronteggiare l'emergenza. È il dato principale che si registra nei nosocomi dell'ex azienda ospedaliera pavese impegnati nella lotta al coronavirus dopo che nei giorni scorsi a Voghere Vigevano sono stati riaperti 12 posti di terapia intensiva. Nel complesso crescono costantemente i ricoveri a fronte di un numero importante di dimissioni. Secondo gli ultimi dati disponibili nei quattro ospedali covid della rete Vigevano, Voghera, Stradella e Casorate Primo sono attualmente ricoverati 185 pazienti di cui 7 in terapia intensiva e 21 in fase di riabilitazione, 4 in più di giovedì e 19 in più di mercoledì. Dati in crescita globale più sostenuta al Policlinico San Matteo di Pavia dove in totale i pazienti passano da 206 a 220 in 24 ore di cui 44 in terapia intensiva, 31 in assistenza respiratoria non invasiva e 145 in degenza ordinaria. Notevole rispetto ai giorni precedenti il numero dei nuovi ricoveri che si attestano a 20 a fronte di 10 pazienti dimessi e 4 che purtroppo non ce l'hanno fatta. Intanto visto l'acuirsi della crisi un primo gruppo di medici e infermieri specializzati provenienti in particolare dal San Matteo ma anche da Maugeri e a SST Pavia da lunedì si occuperà a rotazione della gestione di un modulo di terapia intensiva all'ospedale di Milano Fiera. Diverse novità nelle ultime ore anche sul fronte della gestione dei contagi e delle persone positive che non presentano sintomi gravi ma che devono potersi isolare per il tempo necessario. Tre strutture a Pavia, Montebello della Battaglia e Salice Terme hanno aderito al bando di ATS per diventare Covid Hotel che ospiteranno persone in quarantena o che attendono il tampone negativo ma come detto non possono garantirsi il necessario isolamento presso il proprio domicilio. Tutti in quarantena in frequentatori e educatori dei centri di urni disabili di Pavia tutto è partito dalla positività al Covid di una persona che frequenta una delle tre strutture presenti in città dato che gli operatori sono attivi in tutti e tre gli istituti. In forma prudenziale il Comune ha deciso di interrompere tutte le attività che quindi proseguono solo online. Si stanno effettuando i tamponi agli educatori e frequentatori. Non appena si avrà l'esito si potrà tornare naturalmente alle attività in presenza. La comunicazione ai cittadini dell'andamento dei contagi nel proprio Comune. Sono molti i sindaci che si prendono la briga visto che ATS non fornisce il dato comune per comune di essere appunto i sindaci stessi a fare da tramite con i cittadini descrivendo l'andamento del contagio anche se la Comune e la Comune si seguono procedure diverse. Divulgare i dati sui contagi nel proprio Comune oppure no? Regione Lombardia fornisce il dato complessivo dei 10 comuni con il maggior numero di contagi per ciascuna provincia in assoluto in rapporto alla popolazione. I sindaci però hanno la password per accedere al portale di ATS con tutti i dati. Alcuni scelgono di condividerli attraverso canali istituzionali altri preferiscono fare diversamente. Per limitarci ad alcuni esempi in Lomellina, Robbio e Cilavegna forniscono il dato sui contagi quotidianamente. Il bollettino di Cilavegna è molto accurato e riporta anche il numero di persone in quarantena. A Dorno e Mede i sindaci pubblicano un videomessaggio quasi tutti i giorni in cui forniscono numeri dei contagi, tendenze e altre informazioni. Seguono invece una cadenza più o meno settimanale nei loro videomessaggi i sindaci di Mortara, San Nazaro e Cassonnovo. A Vigevano dall'opposizione si sono segnalate nelle ultime settimane varie sollecitazioni al sindaco perché fornisca bollettino dei dati. È intervenuta in questo senso Italia Viva, mentre il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione con cui si chiede di istituire una sezione del sito internet del Comune con tutte le informazioni sull'emergenza Covid, compreso il bollettino almeno settimanale dei contagi. Cosa spinge un sindaco a decidere se pubblicare o meno i dati? Con la giornata di giovedì il sindaco di Tromello ha deciso di iniziare a fornire il bollettino quotidiano spiegando la scelta in una lettera ai cittadini. Facciamo molta fatica, sono le parole di Gianmarco Negri, a scrivere di numeri perché per noi non siete numeri ma nostri concittadini e concittadine. Ci siamo però accorti che spesso vi interrogate sulla situazione e questa è la risposta che abbiamo ritenuto essere più opportuna. Proprio pochi minuti fa il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa ha diffuso in un videomessaggio i dati settimanali su Vigevano, visto che appunto se ne faceva riferimento anche nel servizio, situazione che non è buona. A Vigevano nell'ultima settimana, quella che si conclude oggi, ci sono stati 369 nuovi contagi, la settimana precedente erano stati 204, quindi quasi raddoppiato il numero di nuovi contagi e si è già superato nel mese di novembre il numero di contagi di tutto il mese precedente, quindi sono in aumento abbastanza considerevole i contagi a Vigevano. Notizie di servizio, anche il Comune di Pavia ha sospeso le limitazioni che riguardano i veicoli più inquinanti in caso di superamento dei limiti di smog in città. Il sindaco fracassi ha recepito con un'ordinanza l'indicazione della regione dato dal fatto che la Lombardia è zona rossa. Non saranno più in vigore le limitazioni per i mezzi privati più inquinanti, come invece prevedevano le cosiddette misure temporanee di primo e secondo livello, quelle che scattano quando ad esempio si superano un certo numero di giorni di concentrazioni alte di PM10. L'ordinanza vale esclusivamente per il periodo in cui la Lombardia rimarrà rossa o arancione, quindi in caso di superamento dei limiti di polveri sottili, le misure temporanee di primo e secondo livello saranno quelle per i riscaldamenti, con l'abbassamento di un grado, con l'agricoltura, varie prescrizioni, però le auto potranno circolare ugualmente. Rimaniamo a Pavia per vedere come si sia rimessa in moto la macchina degli aiuti e della protezione civile. Eravamo preparati a qualsiasi evento catastrofico naturale, ma non a questa pandemia. Basta questa affermazione del coordinatore della protezione civile di Pavia, Andrea Salvini, per spiegare cosa sia stata la prima ondata del coronavirus nel capoluogo. Banalmente sì, perché sui disastri idrogeologici, la piena, piuttosto che un terremoto, ci sono tanti manuali. Per quanto riguarda la pandemia, alla fine non eravamo preparati, nessuno si aspettava una cosa del genere. E quindi abbiamo iniziato dal 21 febbraio, mi ricordo che era carnevale, a iniziare a parlare seriamente di questo virus e di tutta questa situazione, dalle prime determine, delibere, di PCM, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a oggi. Fino ad oggi, una seconda ondata che non ha trovato infatti impreparata la protezione civile. L'esperienza ha scosso, ma anche insegnato, e la macchina degli aiuti, silenziosa ma sempre attiva nel periodo estivo, ha ripreso a pieni giri. Dalla fine di ottobre, con la consegna a domicilio di cibo e medicinali alle persone in quarantena, mentre dalle scorse ore agli over 70, soli e senza aiuti, dal lunedì al venerdì, dalle 9 a mezzogiorno. Siamo ritornati a occuparci del centralino del centro operativo comunale per rispondere alle esigenze dei cittadini ultra settantenni, senza rete familiare, senza avere familiari che possano dare una mano, senza avere una rete di amici che lo aiutano e persone che purtroppo sono state a contatto col virus, sono in quarantena o sono chiuse in casa in attesa di tampone, eccetera, che ovviamente non possono uscire. Ci sono anche delle necessità legate ai pacchi alimentari, ad esempio i pacchi di sostegno, magari a quelle persone che in questo momento non sono nel circuito di servizi sociali, nel circuito della Caritas, perché probabilmente sono in difficoltà contingenti causate proprio dalla situazione di pandemia e di chiusura e che quindi hanno bisogno di usufruire di banalmente pacchi alimentari di sostegno e di supporto alla propria famiglia e che probabilmente avrebbero difficoltà ad ottenerli in maniera alternativa. Per quanto riguarda la città di Pavia, adesso stiamo dando una mano con il coordinamento della protezione civile provinciale, quindi insieme anche ad altri colleghi e gruppi della zona, per la vaccini anti-influenzali su Pavia, che ATS ha messo in campo alla Santa Margherita. Enesimo furto notturno al supermercato MD di Chignolo Po, si tratta del quarto episodio in quattro mesi, i ladri hanno utilizzato ancora una volta la stessa tecnica, si sono calati dall'alto dopo aver praticato un foro sul tetto e una volta dentro hanno fatto una massa di genere alimentare, in particolare salumi e formaggi. L'allarme è scattato attorno alle 4 dell'altra notte, con il sistema che è collegato con la caserma dei Carabinieri. Giunti sul posto però i militari non hanno trovato tracce dei ladri, che hanno agito molto velocemente. Parliamo ora di apicoltura, perché l'Oltrepo Pavese è uno dei territori leader in Lombardia per la produzione di miele. Quest'anno però si sono verificati diversi episodi di avvelenamento di api e proprio dall'Oltrepo arriva un grido d'allarme e una proposta. Le api riposano negli alveari in vista dell'inverno, almeno quelle che si sono salvate dagli avvelenamenti accaduti in questo funesto 2020, decine anche quelli avvenuti nel Pavese, quasi un migliaio in Lombardia, situazioni per cui molto di rado viene riconosciuto un colpevole, ma per il più drammatico avvenuto ad agosto nella pianura fra Cremona e Brescia, l'epilogo potrebbe essere diverso, perché gli esperti, chiamati dalle principali associazioni di categoria a svolgere verifiche approfondite, sono riusciti ad isolare i principi attivi che lo hanno causato, due insetticidi potentissimi usati per trattare soia e mais. E ora è scattato l'esposto alle procure interessate per individuare gli agricoltori colpevoli di questo disastro. Secondo Luca Bonizzoni, consigliere di Api Lombardia, è titolare di una delle più importanti aziende apistiche e biologiche d'Italia, sulle colline di Casteggio, inoltre Po, è un fatto importante nella lotta a questi delitti contro la natura, l'ambiente e anche le tasche degli apicoltori. Provate a pensare di essere un allevatore di pecore e di colpo, avete 200 pecore in un campo, di colpo di queste 200 pecore, 140 muoiono. Abbiamo fatto intervenire le guardie forestali, abbiamo fatto intervenire le ASL, quindi servizio veterinario e diversamente che negli altri casi in cui non sapevamo esattamente perché le api morivano, in questo caso lo sappiamo esattamente. Per cosa si utilizzano questi insetticidi? Per cui insetticidi siamo andati a fare delle ricerche e abbiamo verificato che si trovano in due prodotti, magari anche in altri, che si usano come insetticidi per trattamento del mais o della soia. Tra le proposte sul piatto, allora, ecco una task force per velocizzare le indagini in caso di eventi simili e proposte per disincentivare l'utilizzo dei pesticidi. Negli ultimi anni, con il nuovo assessore, il dottor Rolfi, abbiamo un'apertura verso l'apicoltura. Su nostra spinta, forse, forse, riusciremo a avere una task force che tutte le volte che ci sono dei dubbi di avvelenamenti intervenga, in modo che ci siano il servizio veterinario, ma anche il servizio fitosanitario, per fare dei campioni sulle api che stanno morendo, ma anche su quello che si coltiva lì vicino. Per questo il fitosanitario è importante. Queste, secondo me, sono delle iniziative concrete che in futuro potranno limitare queste terribile cose che avvengono contro le api. E con l'apicoltura si chiude questa edizione di Milano Pavia News. Vi ricordo in prima serata l'appuntamento in diretta con Cristina Colli e le regole dello star bene. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.